O Maria, icona dell'abbraccio tra cielo e terra, tra Dio e l'uomo, tra creatore e creatura, tra l'infinito e il finito, tra l'ostraordinario e l'ordinario. Avvolgi con il tuo abbraccio materno il nostro cuore per sentirci amati, affinché la nostra vita cristiana diventi tutta una risposta gioiosa e d'amore, e di questo sentirci abbracciati che noi abbiamo bisogno per amare noi stessi, condizione necessaria per amare gli altri. O Maria del tenero abbraccio e di comunione d'amore, che invadi il nostro cuore del tuo immenso amore, abbraccia tutti, nessuno escluso. Da te, o Maria, abbiamo ricevuto Gesù, germoglio della nuova creazione, chicco di grano che muore per risorgere e dare vita al mondo. L'uomo nuovo che salva e guarisce l'umanità malata e stanca. Lui, unica vera speranza per tutti. Amen. Il sede della terra è riposto, e ora è ritornato alla vita. C'ha il grano sopra i cogli, la vita esorbe a Dio, e mette al sole i primi germogli. E la tua vita, Signore, riempie il mondo intero, tutto diviene parola. E la tua croce risolto, il tuo dono di vita, che è il tuo dono di vita. Il petto sulla croce è squarciato, sull'albero di vita è offerto, il sede che è caduto in terra per morire, che è il tuo dono di vita. Il tuo dono di vita è squarciato, e la tua croce risolto, il tuo dono di vita è fuorle. Il tuo dono di vita è squarciato, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.